A Oniglia arriva la Befana Imperiese. In cocomitanza con l'inizio dei saldi invernali inditti dalla regione il 6 e 7 gennaio si potrà approfittare di grandi sconti in tutti i negozi delle vie del centro. Via Bonfante, via San Giovanni, via Belgrano, via Ospedali, via Monti, Galleria degli Orti, via Mendola e Piazza San Giovanni. Sarà un fine settimana ricco anche di eventi di intrattenimento per grandi e piccoli. Sabato sotto i portici di via Bonfante ci saranno espositori di oggettistica artigianale e prodotti tipici regionali. Sempre sabato ci sarà Pilù, la Befana trucca bimbi, Jessica sui trampoli che distribuirà caramelle a tutti i bambini e Pedro il trampoliere che regalerà sconti per il Luna Park. Il 7 gennaio ancora spettacoli itineranti per i più piccoli e sconti per il Luna Park.